Musica Amici sportivi ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News è stata una giornata davvero movimentata quella di oggi perché sono arrivati ben due zone in Serie A il Verona ha sollevato dall'incarico Eusebio Di Francesco e il Cagliari ha deciso di sostituire Leonardo Semplici ne parleremo nel corso della nostra edizione del TMV News prima però la Champions perché è una vigilia importante per il Milan che affronterà il Liverpool e l'Inter che se la vedrà con il Real Madrid su queste due partite sentiamo subito Tommaso Bonan Arriva il debutto stagionale in Champions League e che debutto per l'Inter e per il Milan l'Inter attesa dalla gara contro il Real Madrid a San Siro invece il Milan farà visita al Liverpool due squadre storiche, due squadre fortissime se guardiamo poi alla rosa dall'altra parte le italiane due squadre che arrivano da momenti positivi seppur diversi il Milan a punteggio pieno in classifica soprattutto dopo l'ultima vittoria più che convincente contro la Lazio di Maurizio Sarri la Lazio che era un'altra delle squadre a punteggio pieno prima di questa ultima terza giornata di campionato il Milan dicevamo, il Milan che farà a meno e dovrà fare a meno di Ibrahimovic un piccolo risentimento al Tennini Achille uno stop precauzionale non parte per l'Inghilterra, non parte per Liverpool e quindi line avanti tra i rossoni e i ripioli sceglierà tra Giroud e Remic uno dei due partirà dall'inizio l'altro subentrerà a gara in corso l'assenza di Ibra può pesare da un certo punto di vista ma non più di tanto, perché? perché il Milan sta dimostrando di saper sopperire anche alle assenze e ha dimostrato di avere un gioco sicuramente molto più concreto anche in termini di gol rispetto alla passata stagione che comunque l'ha portato alla qualificazione in Champions un giocatore su tutti i tonali la crescita esponenziale di questo ragazzo ne ha parlato anche Pioli in conferenza stampa sta meritando di essere un titolare del Milan questa è la frase di Pioli che investe il giocatore di un'importanza soprattutto nel presente ma anche nel futuro decisamente importante per quanto riguarda le girachie del centrocampo dall'altra parte l'Inter dicevamo contro un avversario molto molto ostico come il Real Madrid Inzaghi ha parlato in conferenza stampa ha detto a prescindere sarà una bellissima serata perché comunque si ritroverà il pubblico a San Siro e poi fondamentalmente Inzaghi può contare sul gruppo quasi al completo tranne ovviamente l'assenza di Stefano Senza un'assenza di lungo corso per il centrocampista molto sfortunato dal punto di vista dei KO il messaggio di Zhang prima della gara un messaggio motivazionale per la squadra giocate con coraggio e poi ha ribadito una cosa molto importante anche per i tifosi dell'Inter la squadra continuerà ad essere competitiva e continuerà a cercare di vincere trofei questo è sicuramente un punto di partenza importante in vista di una stagione molto complicata come quella che si prospetta in Champions Come dicevamo in apertura di trasmissione il Verona ha deciso di esonerare Eusebio Di Francesco zero punti in tre partite per l'ex tecnico della Roma facciamo dunque il punto della situazione collegandoci con il nostro corrispondente sui giallo-blu, Luca Chiarini Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore dell'Elas Verona un fulmine ciel sereno che questa mattina ha squarciato il cielo giallo-blu quando il club ha comunicato all'allenatore l'esonero una decisione che sorprende per diversi motivi a partire dall'importante investimento progettuale ed economico che era stato fatto su Eusebio Di Francesco che aveva posto la firma su un contratto biennale fino al 2023 passando per le buone prestazioni a tratti che erano state offerte dalla squadra a dispetto delle tre sconfitte consecutive fino ad arrivare al feeling che sembrava essersi creato tra il direttore sportivo Toni D'Amico e lo stesso Eusebio Di Francesco che era poi risultato decisivo per l'arrivo a Verona del tecnico pescarese il Verona dal canto suo ha già individuato il sostituto di Francesco che sarà Igor Tudor Tudor che peraltro era stato già vicino alla panchina dell'Elas Verona prima dell'affondo decisivo per Eusebio Di Francesco toccherà dunque all'ex tecnico dell'Udinese e all'ex vice di Andrea Pirlo alla Juventus provare a condurre verso la salvezza una squadra che è ancora alla ricerca dei primi punti della sua stagione Anche il Cagliari ha deciso di allontanare Leonardo Semplici per lui è stata fatale la sconfitta con il Genoa con il Cagliari che si trovava in vantaggio dopo il primo tempo per ben 2-0 nei confronti della formazione di Ballardini e poi è stato sconfitto 3-2 Adesso le considerazioni sul nostro campionato sull'Inter e anche sulla Fiorentina da parte di Sebastien Frey che ieri in Toscana a Pistoia ha presentato la nuova collezione dei suoi vini è diventato un produttore di vini l'ex portiere francese sentiamolo ai nostri microfoni Iniziamo con una battuta riprendendo quello della Fiesole anche con il vino di Frey si possono avere tante donne? Ah, col vino di Frey più che donne viene la pancia mi sa tutta salute a parte gli scherzi sono contento di avervi qui stasera volevo condividere questo momento con voi perché è una bella esperienza è una passione mia come avete visto sulla bottiglia c'è una foto non si potevano mettere la squadra però penso avete capito di che squadra si trattava quindi insomma ho cercato di fare una cosa bella e anche buona e penso, mi direte stasera, penso di esserci riuscito E come è nata e come si è sviluppata la tua passione per i vini? No, diciamo che io sono sempre stato appassionato di vino e quindi ho sempre non bevuto perché magari mi danno dell'ubriaco ho sempre assaggiato, ho sempre gustato con piacere una buona bottiglia ovviamente come sapete in Toscana siamo messi molto bene e niente, grazie a Fabio Cordella proprietario della sua tenuta pugliese ha deciso di fare questo progetto che si chiama The Wine of the Champions che attraverso dei campioni rappresenta il vino italiano made in Italy, in questo caso pugliese però c'è anche un chianti riserva quindi qualcosa di toscano c'è attraverso il mondo e sono il penultimo ad essere entrato nella squadra ne sono orgoglioso e quindi attraverso questo vado a promuovere non è difficile promuovere il vino che ho fatto insieme a lui perché c'è un tocco francese in ogni bottiglia mia e niente, è una passione che per me è infinita perché il vino è bello perché è così ampio e mi continuo a scoprire qualcosa di nuovo e mi piace, sono molto curioso e mi piace scoprire le cose nuove La partita di Bergamo sembra aver dato la svolta a questa squadra ti chiedo se ti ha stupito la vittoria contro l'Atalanta oppure ti aspettavi che dopo le prove belle con Roma e Torino questa squadra avrebbe avuto questo esploi? Allora, dire non mi ha stupito però ovviamente giocarla l'Atalanta è comunque una garanzia negli ultimi anni del campionato francese anche a livello italiano, scusate, a livello europeo andare a batterli in casa loro è una bella vittoria già avevo visto dei segnali la prima di campionato la sconfitta contro la Roma, giusto? Sì Ho visto dei segnali molto positivi nonostante la sconfitta poi insomma oggi siamo a tre partite e due vittorie io credo che è una buona partenza credo che si comincia a vedere il lavoro di italiano che sicuramente se la squadra lo segue e ovviamente se il nostro numero 9 di oggi continua a crescere come lo stava facendo penso che potremo vedere una buona Fiorentina questa stagione Che ti ricorda Vlauvić? Ti ricorda qualcuno dei grandi attaccanti con cui hai giocato? No, che ho giocato? No, perché avevano caratteristiche magari diversi e ancora presto per definirlo un campione Sveglia! Definirlo un campione Nel modo di muoversi mi ricordo un po' Ibrahimovic Quando riguarda la lotta a Scudetto qual è la tua idea? L'Inter con la Samp ha fatto un mezzo passo falso? Esattamente esattamente perché insomma abbiamo visto quest'anno la Juve fa fatica è in confusione è in crisi quindi dovrà sicuramente ritornare presto ai suoi livelli per competere per la lotta a Scudetto l'Inter è una favorita l'Inter ha fatto un piccolo passo falso ragazzi io vi dico occhio comunque alla Roma perché insomma si vede già il lavoro non lavoro, l'impronta di Mourinho ha ridato entusiasmo ha ridato insomma qualità e voglia di competere a questa squadra che comunque per un po' di anni comunque era lì tra la parte alta classifica e la metà classifica penso che Mourinho non si accontenterà di questo potrebbe essere una sorpresa Si parlava dei portieri qual è la tua idea su Cesni che ora è in difficoltà con la Juventus? È in grande difficoltà in effetti perché ha fatto inizio stagione complicato dall'altra parte sono a prescindere della parte calcistica che uno può amare e non amare la Juve in questo caso la Juve in questo momento si è esposta ha detto che ha la massima fiducia di Cesni è il portiere della Juve questa stagione è il portiere titolare insomma io credo che che gli farà bene anche per per tranquillizzarsi avere la fiducia della società ovviamente penso che tutti i giolli adesso se li è giocati dovrà ritornare ai suoi livelli presto perché ovviamente se no insomma dovranno trovare delle soluzioni perché la Juve in effetti deve lottare per lo scudetto questo penso che sono gli obiettivi minori di questa società Adesso altre considerazioni sul campionato da parte di Francesco Colonnese che è stato compagno di squadra di Frey nell'Inter e ha parlato a margine della presentazione dei vini dell'ex portiere francese Ciccio non so se sei un intenditore di vini comunque ti chiedo com'è il vino di Frey il vino di Frey è molto buono io ho assaggiato un rosso che è strepitoso un rosso veramente di alto livello un Merlot io ho di vini un pochino me ne intendo ma un primitivo con Merlot buonissimo ottimo complimenti a Seba è stato molto bravo anche nella scelta di Viglia il campionato invece che cosa ci riserverà? il campionato sta riservando come sempre delle sorprese iniziali normali dovute al fatto che molte volte le squadre grandi non sono ancora al massimo della forma una Fiorentina che ha sorpreso tutti con questa vittoria a Bergamo di grande livello una squadra che è allenata bene per il momento si vede una squadra che ha un'idea di gioco un ottimo Napoli un Milan forte un Milan forte era forte anche l'anno scorso un Inter che insomma domenica forse ha perso due punti però è una squadra secondo me che insomma continuerà a far bene perché Inzaghi non ha cambiato molto è proseguito sul lavoro di Conte e penso che farà una buona stagione e Murigno che insomma l'effetto Murigno non so se l'effetto Mu l'effetto C insomma però insomma ha portato bene alla Roma in queste partite però c'è una vera e propria favorita in questo momento per lo scudetto o no? La favorita per queste poche giornate dico che è il Milan il Milan ha veramente impressionato molto della partita di ieri per la qualità di gioco per la fisicità per l'organizzazione ha un 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 meccanismo di gioco ormai collaudato il stesso allenatore dell'anno scorso quindi forse il Milan in questo momento è un po' avanti a tutti Al contrario è stata una brutta frenata per la Lazio sembrava che fosse già stata in grado di recepire gli insegnamenti di Sarri invece ancora ci vorrà tempo beh sai la Lazio aveva vinto 6 a 1 con la Spezia e aveva sicuramente ingannato un po' tutti ieri ha fatto una partita brutta non ha mai giocato come ha detto il stesso allenatore non è stata mai in partita non ha fatto vedere nulla del gioco di Sarri e adesso dobbiamo vedere ripeto sono le prime giornate secondo me ci vuole ancora un po' di tempo per lasciare lavorare un po' tutti però chiaramente insomma come la Juve che perde tanti punti io dico che sì il campionato è ancora lungo però è meglio essere davanti che dietro che rincorrere ecco tornando invece all'Inter che cosa non ha funzionato secondo te contro la Samp si è parlato anche dei cambi di Inzaghi che non hanno convinto sai presto in Italia subito critichiamo un allenatore Inzaghi è un ottimo allenatore è un bravo un bravo allenatore è arrivato a Milano con una squadra sicuramente cambiata rivoluzionata ha vinto due partite meridatamente ieri era in vantaggio contro un'ottima Sampdoria perché la Sampdoria era una buona squadra l'anno scorso ha fatto 51 punti insomma non è una squadra debole è un'ottima squadra ha avuto secondo me quel 2 a 2 che se fosse se non avesse preso quel momento quel gol lì poteva sicuramente la partita poteva mettersi meglio ha avuto le occasioni per vincerla poi è chiaro gli ultimi 22 minuti si è rimasto in 10 perché si è fatto mal senso e allora la partita è cambiata insomma però sento troppe critiche ci vuole calma equilibrio bisogna lasciare lavorare Inzaghi avere fiducia perché secondo me l'Inter arriverà in fondo Adesso il punto di vista di un campione del mondo Giancarlo Antognoni che parla della nazionale della nostra serie A e anche del suo futuro visto che non è più un dirigente della Fiorentina sentiamo Antognoni Giancarlo sei anche un grande esperto di vini? No esperto di vini no non è non è mai stata la mia passione però per questa occasione si viene volentieri poi per un amico si fa si fa si fa questo si assaggiano i vini si dà un giudizio che sicuramente è positivo per adesso ho solo assaggiato questo rosè che è buono poi vediamo dopo il susseguirsi però tutti ne parlano bene quindi vuol dire che i vini sono buoni invece è un campionato restando sul tema dei vini che potrebbe regalare delle bollicine soprattutto per quello che riguarda la lotta a Scudetto diciamo al vertice ci sono molte squadre che possono ambire a questo trofeo e con la Juve in ritardo in questo momento che poi penso possa ritornare piano piano mentre le prime squadre hanno dimostrato ad oggi di essere insomma in ottima condizione quindi le sappiamo le tre che ci sono Napoli Milan anche la Roma metterei quindi ci saranno delle sorprese quest'anno perché ho trovato degli allenatori bravi giovani che non pensano esclusivamente al risultato ma pensano a giocare cosa che forse prima gli allenatori pensavano prima al risultato piuttosto che giocare invece secondo me il calcio vava sempre così giocato prima di aspettare che subisci insomma credo che gli allenatori nuovi i vari italiani dionisi questi qua hanno dato una prospettiva diversa di questo calcio il Milan di Pioli sembra ancora più convinto più maturo rispetto all'anno scorso potrebbe davvero puntare allo scudetto con più decisione rispetto all'anno scorso sono contento per Pioli perché ha lavorato bene al Milan in questi due anni questo è il terzo quindi conosce l'ambiente conosce i giocatori esprime un ottimo calcio ha una rosa competitiva secondo me è una candidata allo scudetto Giancarlo ti chiedo come stai e che avventure ti si prospettano davanti insomma entrappi su un cammino nuovo per il momento seguo sempre il calcio dall'esterno in questo momento però prospettive vabbè chiaramente c'è sempre un po' la nazionale che sono i miei due obiettivi Fiorentina e nazionale in questo momento in Fiorentina non ci sono quindi penso alla nazionale e vediamo nel proseguo cosa succede ho parlato un po' con la dirigenza ci sono buone prospettive però bisogna avere un po' di pazienza Mancini ha dato diciamo l'input di giocare come si diceva prima ci sono allenatori che hanno queste caratteristiche e penso che la nazionale possa andare avanti a parte la qualificazione ma per il mondiale giù in Qatar può sicuramente dir la sua anche perché c'è una vittoria recente di un europeo difficile sicuramente tra un anno e mezzo quando ci saranno i mondiali troveremo una nazionale italiana ancora più forte di quella che abbiamo visto ad oggi all'evento organizzato da Frey ieri a Pistoia era presente anche Giovanni Branchini uno dei più noti e più esperti agenti a livello internazionale sentiamo le sue considerazioni anche sul campionato se è un intenditore di vini innanzitutto si moderatamente si e si aspettava che Frey diventasse un produttore di vini anche Frey è un buon gourmand quindi poteva succedere onestamente non ci ho mai pensato ma non mi ha sorpreso quando è accaduto in generale meglio i vini francesi o italiani sono buoni entrambi i francesi battono tutti con un marketing e con delle regole che hanno permesso di proteggere il prestigio del loro prodotto da sempre noi a livello di prodotto non siamo inferiori in Serie A se ci fosse un vino la squadra migliore quale sarebbe? il vino migliore chi lo produce? credo che in questo inizio si possa vedere che c'è un certo equilibrio e ci sono squadre che stanno in quello che secondo me è un calo generale della qualità ci sono squadre come il Milan credo la stessa Inter che quest'anno possono far bene poi vediamo l'entusiasmo di Roma tra Roma e Lazio e credo che anche Napoli potrà dire la sua la Juve può avere delle attenuanti in questa partenza difficile? beh penso che chi non vede le attenuanti che ci sono la Juve è in malafede le attenuanti sono tangibili non visibili è un momento di difficoltà bisogna ricostruire tante cose e ci vorrà del tempo siamo così arrivati alla conclusione del nostro TMF News è stata un'edizione particolarmente ricca grazie per averci seguito ci ritroviamo domani buon proseguimento di serata a Grazie a tutti.